Buongiorno a tutti, sono Eraldo Malia, cofondatore di Nuova Via Project, una nuova realtà formativa che opera in Italia all'estero. Nuova Via è una società giovane e dinamica composta interamente da fisioterapisti. La nostra vision è quella di offrire, oltre ai classici eventi formativi, un'esperienza di crescita personale e professionale per tutti, discenti e docenti. La Facoltà di Nuova Via è composta da esperti internazionali ricercatori provenienti da tutto il mondo, i quali hanno accolto con piacere il progetto formativo Nuova Via. Voglio ringraziare Fisioforum e tutti gli organizzatori per averci ospitato in questi tre giorni e per aver accolto i nostri esperti internazionali come Mark Schmitz, SonoSkills, ecografia muscoli-scheletrica e Tom Tortesten con Medical Exercise Therapy dell'Alten Institute, a questo evento unico per la fisioterapia in Italia. Per rimanere sempre aggiornati con i nostri corsi e eventi formativi, seguiteci sulla nostra web page www.novaviaproject.com o sui nostri social. E ricordate, it's a new way anyway, arrivederci a Fisioforum 2019.